Allora ragazzi, buonasera, buonasera a tutti Voi io volevo fare questo video e che vuoi dire a fare? Qui c'ho saputo chi è Qui c'ho saputo chi è Ma perché ne parlavo sempre Ne parlavo sempre, ne parlavo sempre Ma stavolta Stavolta ve lo giro io se non ce la faccio Perché non è buona Dopo tre anni che mi ha pariato Dopo tre anni che mi ha pariato E si ha messo con la tua giù E si l'ha baciata pure Ma si merita questa canzone Ma se la merita nel mero senso Della parola Non ne diamo, no La canzone che voi già sapete di cosa è la miraccia Che adesso Che adesso me la farò Ascoltare, va bene? E se me la farò Ascoltare Ecco, va, ecco Fatte Quanta rabbia dentro gli occhi tuoi Non ti voglio uscire con me mai Non ti appoggi sul mio petto Solamente per dispetto Ora tu hai sbagliato come me mai So cosa si prova adesso che Se ne vedo l'intr'ora Supp gewe But interna Che insegni bene? Acesta è il senso Che è la batteria Che prima Che è ii Franchi Ma non ti farà assai Se è soffrendo e pace non può far Giuro l'occhio per non me guardare Ma lì sta putato a rimanere Sta dicendo che è fermata Mi hai deciso già E tu m'amora sa Che cativa sei E non sei vanturata Ma chi ciocco io Ma greva a te Quanto rito scura Mi spuntava Nurei m'a ricevuto E tu ta mina mia Mosta amara te Si n'amara via D'acchio forte me Si nu c'estai du Nurei spi d'acchio Ma con un occhio buzza Nu cerca Poi mi lasci guzza Fa non ti farà assai Ma non ti farà assai Ma non ti farà assai Sì, sì, sì e io avevo voluto fare questa risata ma io cosa succede? io stavo vogliono chiamare stavo vogliono chiamare ma pure se la gente si mette a ridere fa buono fa buono perché la gente si mette a ridere appunto prima la seconda cosa quando tu mi chiamai quando ti chiamai lo messo insieme ho fatto la sciata insieme a Cessi, Napoli e Bruno ma che nome è Bruno? che nome è Bruno? fammi capire c'è un nome mmmm strano ha 5 ma non è bello ma non mi vuoi dire Giacomo ma che è il suo nome Bruno? è Bruno è Bruno tutto scemo il suo rione ma perchè Aglio? lo faccio ascoltare i loro kids lo faccio ancora innamorato di lui e gli faccio andare lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio aspettate ragazzi ora farò tutto ah io siete pronti? 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 E quanti giorni erano vedele a pensate, nel conquistate ragazze con cosa va bene, a modo che si vede, ma non si muovete da me, e non sapeva che, con mamma si romprema, con mamma si romprema, si trova l'ultima donna, con mamma si romprema, con mamma si romprema, se ho scelto la cerra, non si muovete da me. Guarda giù, pianura, e scendimi la volta per la cerra, dovevo fare tutta la vita, che sono sapato in derista, e poi Bruno, se tu schifavi a squadra a me, gli schifavi a squadra a tutti, e poi sentite che partite, non ci credo, che tutti i primi sono i partiti all'interno, e mi fanno i miei fissi, che sta a squadra a me, non si tocca, ti capite strunza, ti capite strunza, ciao a giù, è facile tornare a salto, commentate, commentate, tu hai giù, a te commentate, mi ne vuoi, commentate. Grazie.